motociclista rischia di perdere un braccio anziano cade nel fiume ancora una settimana di caldo ben trovati al tg marco giorgio 29 anni per evitare l'impatto con un trattore ha perso il controllo della moto con cui stava percorrendo lo stradone che costeggia lo stabilimento stellantis in territorio del comune di villa santa lucia vicino al vivio per la frazione di piumarola è caduto di sella urtando violentemente prima il gran rail e poi la parte esterna del marciapiede è stato soccorso ed è ritrasportato in gravi condizioni all'ospedale san camillo di roma dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per cercare di salvargli un braccio quasi maciullato nell'incidente stradale versa in prognosi riservata un 83enne di castelmassimo di veroli è caduto nel fiume liri in pieno centro a sora non è chiaro se si sia asporto troppo o si sia lasciato andare volontariamente è salvo grazie al pronto intervento di un passante fabio vani assistente capo della polizia libero dal servizio che ha poi allertato i vigili del fuoco intervenuti con un'autoscala per recuperare l'anziano e permetterne il trasporto all'ospedale santissima trinità forti temporali e rovesci in ciociaria con le temperature scese di qualche grado nubi e fraggio e alberi divelti in valle di comino e a cassino dove un fulmine ha sfiorato un traliccio dell'enel ma da mercoledì 28 agosto a domenica primo settembre tornerà il caldo temperature massime tra i 36 37 gradi a frosinone con minime comprese tra i 20 e 21 gradi nel weekend possibili nuove precipitazioni che potrebbero abbassare a 30 gradi la temperatura massima nel capoluogo a partire da lunedì 2 settembre ladri sempre in azione un anziano di ceccano sente rumori in bagno nella casa di via diaz apre la porta e trova un ladro che era entrato forzando una porta finestra non si perde d'animo si mette a gridare e mette in fuga il malvivente una famiglia di cassino torna dalle vacanze ritrova l'appartamento messo a soquadro e senza oggetti preziosi sono stati individuati quattro giovani che recentemente hanno animato una rissa in via madonna della sanità da latri dove è comparsa anche una mazza da baseball uno del posto tre di vigo nel lazio ed hanno un'età compresa tra i 20 e 30 anni confermatele in descrizioni sul movente della rissa una donna contesa nuovo incidente stradale auto cinghiale questa volta sulla strada provinciale che unisce fiuggi al lago di canterno nessun ferito ma animale morto e danni alla vettura a risentirci alla prossima edizione grazie a tutti